L'Umbria è la regione che ha intercettato più risorse della media nazionale in materia di piano nazionale di ripresa e resilienza. A ricordarlo è la stessa presidente della regione Umbria intervistata dall'ANSA. Donatella Tesei spiega che sono state così aperte tutte le interlocuzioni con i vari ministeri, con la consapevolezza delle varie missioni e che si è lavorato in maniera pragmatica portandosi avanti anche con la progettazione. Osservato speciale per la presidente è il settore delle infrastrutture perché l'obiettivo è quello di colmare il divario infrastrutturale dell'Umbria. Ma sentiamo su questo le parole della Tesei. La mia preoccupazione principale è stata subito quella delle infrastrutture perché questa regione ormai da decenni soffre di un problema di isolamento infrastrutturale e su quel tema naturalmente sono andata avanti molto spedita da subito, per la verità ancora prima che fosse deciso dall'Europa e quindi con ratifica dello Stato italiano il format del PNRR. E su questo fronte direi che abbiamo raggiunto accordi e quindi trovato coperture economiche sia col PNRR ma anche con altre fonte di finanziamento proprio per cercare di colmare questo divario infrastrutturale dell'Umbria e quindi abbiamo agito anche con le varie con interlocuzioni con le varie imprese nazionali, parlo delle ferrovie piuttosto che di ANAS, piuttosto che del Ministero delle Infrastrutture. Nell'ambito delle varie missioni del PNRR la regione poi, sottolinea ancora la governatrice, ha presentato progettazioni che hanno trovato l'assenso dei vari ministeri competenti e sulle risorse intercettate con una percentuale che supera le altre regioni italiane. Questo è il suo commento che anticipa anche passaggi futuri. Alla fine rispetto a quello che era stato il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza diciamo Regione Umbria che assommava all'inizio a circa 1,5 miliardi di euro, in realtà noi oggi già abbiamo avuto coperture economiche per 1,7 miliardi di euro. È considerata l'entità diciamo della regione Umbria e della sua popolazione. Oggi ci sono naturalmente agenzie che fanno ricerca e non solo che fanno ricerca ma che lavorano i dati che ci dicono che l'Umbria ha intercettato rispetto alle altre regioni italiane una percentuale di PNRR più alta. E questo naturalmente ci fa molto piacere perché avevamo bisogno ecco di molte cose. Devo dire che non è finita la nostra interlocuzione perché come sapete bene anche il PNRR così come gestito a livello nazionale che presuppone non solo progetti ma anche riforme ha degli step quindi dei finanziamenti che vengono accordati dall'Europa man mano che si va avanti con le varie fasi. Una regione che quindi è ancora in gioco per Tesei che spera anche di raggiungere ulteriori risultati che come sottolinea saranno importantissimi soprattutto visto gli anni duri e l'orizzonte complicati perché caratterizzati dalle conseguenze di una pandemia, di una guerra in Europa, del caro energia e dell'inflazione oltre che il tema dell'approvvigionamento di materiali. Per superare queste criticità quindi anche l'Umbria spera nell'effetto del PNRR come spiega Tesei. Sentiamola. Sappiamo perfettamente che l'Italia è nell'ambito del panorama europeo dal punto di vista industriale, imprenditoriale, è terra di trasformazioni. Ecco noi dovremo rivedere anche questo modello perché anche in Umbria naturalmente abbiamo imprese, aziende, industrie molto importanti che subiscono anche queste conseguenze dei tempi che dobbiamo affrontare e quindi come Regione diciamo che l'impatto che avrà del PNRR sull'Umbria potrà aiutarci a superare anche queste grandi criticità perché significa fare investimenti sul territorio, significa creare nuovi posti di lavoro e anche tutto ciò che poi si ripercuote sull'indotto e quindi su questo insomma sicuramente saremmo più forti per lo meno per affrontare questo momento così difficile di quanto potevamo esserlo prima fino ai dati del 2019 che vedevano questa Regione con un PIL tra i più bassi d'Italia. Grazie a tutti.